E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il consolidamento statico della palestra del liceo classico video di Sulmona che prevede l'adeguamento antisismico del complesso. I fondi per le verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione erano stati concessi dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca attraverso il decreto direttoriale numero 363 del 18 luglio 2018. L'incarico di progettazione per la valutazione di vulnerabilità è stato affidato all'architetto Elario Vitalini mentre la progettazione dell'adeguamento antisismico è stata eseguita dall'architetto Raffaello Lacioppa di Chieti che ha previsto un importo dei lavori pari a 702.803,88 euro somma che consentirà il recupero della piena fruibilità della struttura. Analogo provvedimento è stato adottato qualche giorno fa dal Presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, per l'Istituto Serpieri di Prato-La Peligna che prevede per il recupero del complesso un importo di lavori pari a 2.254.249 euro. Un altro importante risultato si aggiunge a quello dei Serpieri di Prato-La Peligna di gare il delegato dell'edilizia scolastica Andrea Ramunno, con l'iter conclusivo di questa prima fase che prevede l'adeguamento e la piena fruibilità della palestra del liceo classico video di Sulmona. Questi giorni mi sto interessando insieme qui all'assessore Sulmona Piero Fasciani sulla problematica della palestra del liceo classico che rappresenta un qualcosa da risolvere nell'immediato. Io vedo poi innanzitutto, bisogna ricordare che Sulmona c'è bisogno di porre una grande attenzione sul tema scuole perché mentre in alcuni territori parliamo di miglioramento, ampliamento dell'offerta, qui abbiamo scuole chiuse da anni, quindi su questo è una posta un'attenzione perché i ragazzi vivono un disagio non indifferente.